Il countdown è scattato dalle 12 di ieri quando nella stanza del RUPI responsabile unico del procedimento per il comune di Salerno, l'ingegnere Luca Caselli, i rappresentanti delle imprese che hanno vinto l'appalto hanno ricevuto ufficialmente la consegna delle aree di cantiere. Da oggi ci sono 365 giorni per il completamento di Piazza della Libertà. Dopo il primo appalto che ha consentito di mettere in sicurezza il progetto che prevede la nascita di un'area di aggregazione ma soprattutto parcheggi nel cuore del comune capoluogo, ora si passa all'ultima azione del progetto disegnato da Bofill e tormentato da una vicenda giudiziaria tortuosa e ancora in corso che non intacca l'attuale gara per il completamento. Nel crono programma il primo passo sarà la delimitazione delle aree di cantiere che vedono al lavoro anche l'autorità portuale di Salerno perché alcune ricadono nel perimetro di sua competenza. Poi anche in concomitanza con il miglioramento delle condizioni meteorologiche i lavori potranno partire. Ad esprimere soddisfazione per l'avvio dell'intervento sono stati in modo particolare Elio ed Eugenio Rainoni alla guida della RCM Costruzioni, l'impresa che ha già realizzato anche il crescent che si affaccia sulla piazza. Il completamento del progetto valorizzerà anche l'edificio ed in modo particolare il porticato destinato ad ospitare negozi di lusso. Non meno attesa c'è per i locali che si affacceranno sul prolungamento del lungomare che consentirà alla piazza di diventare la nuova movida di Salerno. Non meno attesa c'è per i locali che si affaccia sulla piazza.